Grazie a tutti. Sì, provo a andare giù in segreteria, dovrebbe esserci un corso che ne sia così chiami gli ecologisti anonimi, provo ad andarla a vedere. Vado subito? No, 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 prima finisci di pulire, poi vai. Grazie. Salve, ho sentito parlare nel gruppo degli ecologisti anonimi. Sì, certo, inizia proprio domani, questi sono i moduli da compilare. Grazie, li compillo subito, arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Vengo, prendo a posto. Vieni. La carta va nel cestino bianco, l'altro va nel cestino giallo e la va nel cestino marrone. Sì, significa bene. Va nel cestino blu. Bravo Gabriele, hai buttato la carta nel cestino corretto. Grazie. Gabriele, Gabriele, fermati un attimo. Questa è la tua ricompensa per aver buttato la carta nel cestino corretto. Grazie. 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 Grazie.